Anche l'unità pastorale di Selvino Aviatico sarà protagonista nel prossimo weekend di un appuntamento legato un po' alle settimane della cultura, della diocesi. Venerdì 26 aprile alle ore 20.45 nella chiesa di Santa Maria della Salute a Selvino vi sarà una elevazione musicale dal titolo Dona Nobis Pacem nell'ambito della rassegna della cultura della diocesi di Bergamo. Ringrazio la pastorale della cultura nella persona di Don Davide Rota Conti e il circolo musicale Maier Donizzetti di Bergamo che verrà a Selvino per la replica del 26 aprile. Chi sono quindi gli interpreti? Avremo Damiano Maria Carissoni al pianoforte, Stefano Boverio al sax, Juco Boverio come soprano, Danilo Formaggia come tenore e Marzio Giossi che festeggia i 40 anni di carriera come baritono. Ecco, non è l'unico appuntamento che l'ha visto protagonista. Allora, ringrazio veramente il circolo musicale Maier Donizzetti di Bergamo che ritorna all'attività e ha tenuto la prima esecuzione di questa elevazione musicale il 5 aprile scorso in apertura della rassegna nella cattedrale di Sant'Alessandro Martire a Bergamo e torna a Selvino per la replica proprio questo venerdì 26 aprile. Ed è una delle tante iniziative dell'unità pastorale Selvino Aviatico legate al mondo della cultura negli ultimi anni? L'unità pastorale Selvino Aviatico sono ormai tre anni che grazie all'aiuto di Don Alberto Brignoli organizza eventi culturali, concerti su tutto l'altopiano sia a Selvino che a Aviatico quindi nelle chiese ma anche nelle piazze come la scorsa estate. Nell'ambito di questa rassegna l'anno scorso allestimo la passione in bergamasco antico col grande attore bergamasco Maurizio Tabani e quest'anno proponiamo questa collaborazione con il circolo musicale Maier Donizetti di Bergamo che a grande tradizione siamo molto onorati.